Dall'isola di Sardegna, l'isola di Manhattan, arriva per la prima volta oltro oceano uno dei misteri più intriganti della storia del Mediterraneo, quello dei giganti di Monte Prama. Il pugilatore in sardo manneddu, cioè quello grande, un metro e 92 per 300 chili, scolpito tra il 900 e il 750 a.C. in un unico blocco di calcare e ritrovato nella Sardegna centro-occidentale negli anni 70 insieme a decine di altre sculture di epoca nuragica, fa da oggi bella mostra di sé in una delle sale principali del Metropolitan Museum di New York, in prestito dalla Fondazione Monte Prama in collaborazione con la Regione Sardegna e il Ministero per i beni culturali. Il gigante è stato presentato al pubblico americano alla presenza del segretario generale della Farnesina, tra ospiti come l'attore statunitense Alessandro Nivola, nipote dello scultore sardo Costantino e i rappresentanti delle istituzioni italiane a New York. La civiltà nuragica rappresenta la storia più antica del Mediterraneo occidentale e soprattutto raccontando la civiltà nuragica si può raccontare quel tempo non solo in Sardegna ma in una riedizione della storia del Mediterraneo allargato che è molto interessante. Per la Sardegna oggi è importantissimo perché attirare i visitatori che vengano a cercare non solo il mare ma che possano anche studiare la storia antica di quest'isola così particolare attraverso questo fenomeno dei giganti di Monte Prama crediamo che possa essere un'opportunità in più. Il pugilatore sarà in esposizione a New York fino al prossimo dicembre poi volerà a Parigi, Londra, Praga, Amsterdam, Bruxelles e Barcellona. Marco Congiu, Sky TG24, New York.